Siamo orgogliosi come Centro Sportivo Italiano di aver partecipato e organizzato questo evento che ha avuto l'ambito regionale, quindi tutte le comunità in dialogo. Il Centro Sportivo Italiano è un ente di promozione sportiva che promuove lo sport attraverso l'attenzione alla persona, all'essere umano. Per cui questo è veramente l'ambito e il modo in cui poter mettersi al servizio degli altri. L'associazione che quest'anno festeggia il 75esimo anno di Costituzione e il Papa Francesco, un mese fa siamo stati in udienza privata da lui, ci ha supportato e ci ha invogliato a far giocare sul campo e permettere a tutti di giocare. E' mai come questo evento verificato di persona che si sono tutti divertiti al di là dell'aspetto e dell'ambito della vittoria e di tutto quanto. Quindi siamo orgogliosi, siamo onorati di essere riusciti ad organizzare e sicuramente per l'anno prossimo riusciremo a fare un altro anno e a permettere a questi ragazzi di incontrarsi, perché è il modo più bello di stare insieme, di fare sport e di fare festa. Grazie. Grazie.